Un campionato anomalo, strano, indecifrabile. Funistato certamente dal Covid, la pandemia che sta ammorbando il globo. Giocato a singhiozzo in stadi deserti. Così anche nel girone H di Serie D partite rinviate, gare tante, troppe da recuperare. Anche il bitonto ha dovuto registrare i suoi contagiati ed ha saltato le sfide con Puteolana e Aversa. Se si considera che questa pausa forzata ai box arriva dopo una stagione iniziata in ritardo per effetto della scura della giustizia, la preparazione monca ed il mercato frettoloso, pur se di qualità, si può dedurre come la situazione non sia delle migliori. Mister Nicola Ragno, tanto per cambiare, ha sfruttato lo stop per lavorare ancora e ancora di più, provando schemi e cercando per l'ennesima volta l'amalgama fra i suoi. Non è facile anenarsi senza scendere in campo. Prova del 9 per ogni squadra. Intanto, negativizzatisi quasi tutti, mercoledì leoncelli saranno di scena al vicino di Gravina. È fiducioso il jolly Savio Piarulli. Noi comunque dobbiamo vedere domenica in domenica. Bisogna iniziare a fare punti perché ci dà autostima e tutto, perché siamo, come ho detto prima, un grande gruppo e possiamo arrivare in alto. È difficile comunque allenarsi sapendo di non giocare. Però ora che abbiamo il momento giusto per riprenderci. Spero che lo faremo alla grande come ci stiamo allenando. Una nuova freccia nel turcasso dell'allenatore molfettese, che spera di approfittare dei passi falsi delle rivali per recuperare posizioni in classifica che vede il club centenario malinconicamente nei bassi fondi. Si tratta di Silvio Colella, un barese 2002 che arriva dalla primavera leccese, quasi la medesima nidiata degli stellanti Pierno e Gianfreda dello scorso anno. Spero di far bene come ha fatto Pierno l'anno scorso, magari di lottare per l'ACI e mi hanno molto parlato bene di questa Divisonto e sono molto felice di essere venuto qui.